Mister, partiamo dalla triplice sostituzione dell'intervallo, era programmata o è stata frutto di necessità? No, tre cambi forzati, tutti e tre nel stesso momento sul finire del primo tempo e per problemi speriamo che non sia nulla di grande. Nel secondo tempo è iniziato con il 4-3-3 poi è passato al 4-2-3-1, come mai questa scelta? Facciamo fatica un po' a coprire il campo e andargli a pressare, poi abbiamo trovato la giusta strada, questo fa parte del nostro bagaglio in base alle situazioni e poter cambiare senza stravolgere poi quella è la nostra identità. Ci si attendeva magari durante la partita in corso la staffetta Ciofani-Colombo invece il ragazzo è rimasto in tanchina dovuto alla situazione? Era una situazione veramente troppo particolare, il momento insomma c'erano altre esigenze, mi dispiace per il ragazzo ma insomma il momento era quello e Daniel con grandi sacrifici ottenendo la gara fino all'ultimo. Sette punti nei tre sconti diretti ravvicinati senza peraltro subire reti, è soddisfatto di questo bottino. Sono contento, ci permette di affrontare questi dieci giorni di lavoro con la giusta energia, con una consapevolezza diversa e anche con una fiducia diversa. Quanto rammarico c'è per alcune situazioni da gol in cui è mancato l'ultimo passaggio oppure un po' di fortuna di precisione? Noi siamo arrivati tante volte in quella situazione per poter far male e non siamo stati concreti, anche se poi rimane negli occhi l'occasione clamorosa che hanno avuto loro su una ripartenza, su un calcio d'angolo e lì probabilmente ha avuto problemi anche Valeri e questo fa parte un po' del nostro percorso e è chiaro che in alcuni momenti bisogna essere un po' più pratici, più concreti. L'ultima domanda, la Crema ha sofferto solo per qualche tiro determinato poi a lato di Bidawi e non ha quasi mai dato la sensazione di poter subire gol in questa gara contro l'Aspoli, come giudica la prestazione in fase difensiva? La fase difensiva poi non riguarda solo la linea, riguarda un po' tutti, abbiamo lavorato bene e ripeto, una linea difensiva che è sotto pressione perché già da troppo tempo che lavora, sono sempre gli stessi e anche lo stesso Fiordaliso che ha fatto ancora un'altra partita molto importante per lui tra le partite che veniva da un lungo stop, poi Ravanelli e Valeri, quindi io spero che in questi giorni potremo recuperare un po' più contro qualche giocatore in quella età. Grazie.